ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrill lucicoso canale eccomi di ritorno dopo la presentazione del kit è in collaborazione con il sito perline film in co il kit del bracciale polvere di stelle quest'oggi vi presento le novità lanciate con l'inizio dell'anno proprio dal sito perline film in co queste novità le abbiamo fatte vedere durante la nostra recente diretta quindi ora ve le mostro anche qui sul canale in particolare parto col presentarvi nuovissime colorazioni di quei rivoli in cristallo in alta qualità che vi sono piaciute già tantissimo prima delle vacanze di natale sono arrivati altri colori quindi anche in questa occasione analisa ha deciso di fare un meraviglioso kit per avere tutte queste colorazioni insieme quindi parto subito a mostrarvi le colorazioni dalla prima guardate che meraviglia chi ha già avuto occasione di sperimentare questi rivoli ha già visto proprio la qualità lo spessore che insomma è sempre importante perché chiaramente lo spessore denota tantissimo la qualità dei nostri amati rivoli e guardate la colorazione è proprio perfetta è molto molto sobrilucicosa quindi questa la prima colorazione poi abbiamo quest'altra ecco qua ora non so tutti quanti i nomi ma li troverete ovviamente nell'inserzione che vi lascerò qui sotto saranno scritti tutti quanti i nomi dettagliati guardate che spettacolo che luce anche questo abbiamo poi questa meraviglia guardate che luce spettacolare belli belli abbiamo questo meraviglioso colore oro proprio guardate che intensità anche qua di colore di luce spettacolare proprio guardate procediamo con quest'altro ecco qua come guardate muovendo di quante luce quante quante sfumature che appaiono appunto davanti a noi anche in questo colore meraviglioso ovviamente lo spessore non sto a dirvelo ogni volta ma sono tutti quanti fatti benissimo abbiamo poi ecco queste meravigliose colorazioni patina guardate qua abbiamo punto si intravede la finitura patina sopra credo che riuscite a vedere bene anche dalla fotocamera bellissimo uno dei miei preferiti sempre patina ecco questo ve l'ho mostrato all'interno di uno dei kit del bracciale polvere di stelle appunto e la colorazione rose gold patina ecco qua la vedete sicuramente ancora meglio la finitura rispetto a dentro la lavorazione che attraverso la fotocamera è difficile farvelo vedere ma qua sicuramente vedete bene la finitura poi abbiamo quest'altro guardate che spettacolo abbiamo poi questo che è un altro di quei colori che troviamo che vi ho fatto vedere nella lavorazione del del kit del bracciale polvere di stelle appunto la colorazione sul blu ha al suo interno questi meravigliosi rivoli e deve essere la colorazione blue shade se non ricordo male all'interno di questo kit abbiamo anche la colorazione white ice che è quella che vi ho fatto vedere nel bracciale polvere di stelle la prima versione diciamo quella uscita nel kitissimo che è stata riproposta anche sotto forma di kit e anche in questo caso ve lo faccio vedere lavorato perché ho approfittato subito di questa coppia di rivoli per realizzare gli orecchini in parour del bracciale quindi guardate di qua questi sono appunto i rivoli white ice e hanno come vi dicevo già nella presentazione del bracciale questo effetto ice ecco come vedete con il modulino del bracciale si riesce a fare tranquillamente una bella parour acquistando il materiale separatamente e realizzando appunto gli orecchini quindi anche la colorazione white ice presente in questo meraviglioso kit sempre ice abbiamo questo che è l'acquamarina se non ricordo male qua adesso cominciamo a andare magari in colori più che vanno verso la primavera ma che è presto vogliamo cominciare sicuramente ad usare perché abbiamo voglia sicuramente di colore e di primavera guardate che meraviglia anche questi abbiamo questo che è un'altra meraviglia e questo guardate che spettacolo meraviglioso proprio ecco questo ha tra l'altro la parte retro colorata spettacolare poi andiamo proprio verso la nostra attesa primavera che vogliamo al più presto con questo meraviglioso tono di rosa guardate che meraviglia anche in questo caso il retro colorato eccoli qua abbiamo poi questo bel verde ecco qua abbiamo il retro bianco un altro meraviglioso colore che ci richiama proprio anche l'estate questo bellissimo giallo guardate anche in questo caso il retro colorato spettacolare veramente e per finire un'altra tonalità di verde bellissimo con il retro che richiama appunto la colorazione bene queste sono le 16 colorazioni proposte in questo kit quindi molti nuovi arrivi altri fra le colorazioni più amate e quindi questo è il kit rivoli che trovate sul sito perlinefimico vi lascerò qui sotto il link all'inserzione ora procedo vi faccio vedere un'altra bellissima novità del sito qui eccomi che dopo avervi mostrato i fantastici rivoli in cristallo ora vi mostro un altro nuovissimo arrivo del sito ovvero sono arrivate le tanto attese mini gem duo e io non vedevo veramente l'ora di averle fra le mani quindi sono arrivati ben 11 colori di queste nuove perline ora ve le faccio vedere tutte quante le colorazioni e anche di questo trovate da questo momento il kit da 5 grammi per ciascuna colorazione quindi di tutti quanti gli 11 colori un modo per avere tutte le colorazioni a parata di mano e per poterle sperimentare quindi ora ve le mostro subito tutte quante partendo da questa che è la colorazione crystal sunset e adesso vi faccio vedere ovviamente le perline anche fuori dalla bustina così da visto che è una perlina nuova da vedere un attimino la particolarità guardate quanto sono graziose quanto sono piccine io ho preparato anche una gem duo standard diciamo per farvele vedere vicino ho preso anche una colorazione similare eccola qua che le ho inserite insieme sul lago quindi guardate la gem duo standard insieme alla mini gem duo è veramente molto molto graziosa non vedo l'ora di sperimentarla quindi quella che vedete è la prima colorazione ora passo a mostrarvi tutte le altre colorazioni bellissime allora procediamo con questa guardate che spettacolo è la colorazione crystal violet rainbow e come potete vedere anche se sono comunque confezioni da 5 grammi c'è un bel quantitativo di perline all'interno in quanto sono piccole allora la seconda colorazione poi procediamo con questa che è la colorazione jet bronze guardate che spettacolo procediamo con questa la colorazione chuck blu glaze meravigliosa in assoluto fra le mie preferite questa insieme anche alla prima che vi ho mostrato eccola qua la colorazione tropical rain forest che ormai amo in tutte le perline una colorazione bellissima secondo me guardate che spettacolo procediamo con un classico ovvero il bronze pale gold presente anche in queste perline che sono le mini gem duo il jet matt un altro classico è questo che è crystal full labrador quindi questo bel argento pieno abbiamo abbiamo poi questo che è il chalke orange lasser sotto ovviamente di avorio abbiamo questo che è il crystal gold bronze guardate anche questo che bello mi pare che è ve lo faccio vedere anche questo fuori dalla bustina perché è molto particolare quindi ripongo queste dentro la bustina e vi voglio mostrare anche fuori dalla bustina questo colore che merita sicuramente di essere visto più da vicino guardate che spettacolo bello bello per finire l'ultima colorazione è la colorazione gold shine dark olive bella bella anche questa colorazione bene come potete vedere sono ben 11 colorazioni di questa nuova perlina che da questo momento trovate sul sito perline firmanco vi lascerò ovviamente il link qui sotto nell'info box sia per quanto riguarda anche dei derivoli che per quanto riguarda il kit delle mini gem duo quindi io vi ringrazio per aver visionato questo video spero che vi possa essere utile io ringrazio analisa ringrazio voi per la visione e ci vediamo alla prossima ciao ciao